Un saluto agli amici del blog ilmonti.com lunedì 17 dicembre nella conferenza stampa organizzata a Seveso da Alboni e De Nicola i due hanno dato vita a un simpatico siparietto seguendo un cliché da politica older style far finta di essere vicini alla gente solo a ridosso delle elezioni tentare la pratica dello scaricabarile sulle responsabilità e magari raccontare qualche favoletta per far credere che dopo aver inviato decine e decine di migliaia di verbali alla gente questi lavoravano nell'interesse degli automobilisti beh che dire applausi le uniche dichiarazioni di una certa rilevanza uscita con la conferenza stampa sono la promessa di innalzare a 100 chilometri il limite di velocità alla primavera del 2013 e poi una piccola marcia indietro che per noi era di la verità scontata dicendo che il tutor entrerà in funzione solo nella tratta milanese della Milano Meda infatti noi avevamo già chiarito da diverso tempo e in più occasioni devo dire anche su questo blog che non era possibile installare portali di tutor nella provincia di Monzebrianza senza che la stessa fosse in qualche modo interessata ma veniamo alla strana storia del track fantasma ieri mi ha scritto Andrea un'automobilista multato e mi ha informato che la provincia di Milano aveva perso altri due ricorsi portati avanti da due cittadini multati dai famosi autovelox e in cui nelle loro foto venivano riportate altre vetture la vicenda però in questo caso è davvero curioso e devo dire che presenta anche alcuni risvolti poco edificanti Andrea si è visto recapitare una multa contestata perché andava a una velocità di 104 chilometri orari e l'avrebbe percorsa a bordo di un mezzo pesante identificato come track la cosa ha fatto nascere qualche sospetto ad Andrea non fosse altro che lui era la guida di una Citroen C4 che notoriamente non è certo assimilabile alla categoria dei track quindi una volta collegato al portale ha visionato il fotogramma e ha scoperto questa nuova magia l'immagine infatti riportava due vetture in cui una occupava la corsia di destra la sua e una al fianco però per un gioco di prospettive un po' particolari l'autovelox ha considerato le due vetture come un unico veicolo e quindi essendo un veicolo lungo ha assegnato loro la categoria di track bene inteso errare è umano anzi per noi possono anche errare i mezzi e le apparecchiature elettroniche devo dire che qui il problema è come poi ci si comporta una volta verificato dell'errore beh dico come è possibile che questo verbale sia alla fine stato inviato ad Andrea chi ha bisognato questa foto come ha fatto a non accorgersi che la vettura sanzionata non era un camion bensì una c4 e se Andrea avesse pagato subito senza dare una sbirciatina l'immagine collegandosi al portale se non avesse dato retta anche al mio consiglio che ho lanciato durante il servizio di striscia tra l'altro uno dei motivi pare per cui io sia stato correlato cosa sarebbe successo beh sicuramente avrebbe pagato pur non avendo commesso l'infrazione e qualcuno chiaramente avrebbe intascato dei soldi senza averne nessun diritto in questo caso ma c'è dell'altro una volta accortosi del palese errore a inizio settembre Andrea si è collegato al portale della provincia Milano ha scaricato il modulo distanza di archiviazione del verbale di accertamento al codice della strada e ha provveduto ad inviarlo alla provincia di Milano corredato anche da due righe molto educate in cui faceva presente il grossolano errore e chiedeva l'archiviazione del verbale risultato nulla da fare non viene archiviato un bel niente a questo punto Andrea è costretto a rivolgersi al giudice di pace a sborsare i 36 euro a perdere chiaramente un sacco di tempo sottratto alla sua attività lavorativa e il tutto per cosa è semplicemente per spiegare davanti ad un giudice che la sua Citroen c4 non è un camion beh direi che questo è assolutamente scandaloso durante l'udienza però il colpo di scena l'avvocato della provincia di Milano sfodera la memoria difensiva in cui si dichiara che a seguito del ricorso promosso da Andrea gli uffici hanno verificato che la classificazione del veicolo fosse errata bontaloro e che per questo motivo avevano già provveduto di inoltrare una richiesta di archiviazione alla prefettura di Milano di fatto cancellando la multa a quel punto io noto tre evidenti anomalie per prima cosa non si capisce il motivo anzi forse si capisce benissimo per cui non è stata subito accettata l'istanza di archiviazione ma si è agito solo a seguito di un ricorso una strada che sappiamo molti utenti preferiscono non percorrere perché la considerano ostica e soprattutto non vogliono magari perdere tempo insomma a casa mia si suol dire se la valaga e gap è tradotto in italiano significa che noi ci proviamo poi se va va in secondo luogo se davvero come si è dichiarato nella memoria difensiva l'errore consisteva solo nella classificazione del veicolo mi domando perché non si sia provveduto a sanzionare comunque l'eccesso di velocità con la classificazione corretta ovvero quella di un autoveicolo terzo ed ultimo nella memoria la provincia sostiene che l'errore materiale è stato commesso dal validatore senza però far cenno al fatto che la categoria track è stata assegnata in automatico dall'autovelox infatti compare nel fotogramma quindi in questo caso non riesce quindi a discriminare tra le varie vatture coinvolte sulla sulla strada una risposta indiretta a questi quesiti forse la troviamo sempre nelle parole che ci scrive andrea dandoci notizie di un'altra vittoria ovvero di un altro esito positivo di un ricorso che ha portato avanti un suo familiare sanzionato anche egli per la presenza di due veicoli nella stessa foto in cui il giudice di pace ha dato ragione annullando la multa quindi è abbastanza comprensibile che la memoria abbia evitato di entrare nel merito del corretto funzionamento della perrecchiatura ma si sia limitata a battere l'esta ritirata chiedendo l'annullamento della multa adesso quindi non ci resta che attendere con ansia il deposito delle sentenze in cui potremmo leggere le motivazioni per cui il giudice ha colto ricorsi certo che comincia a delinearsi una linea di condotta abbastanza lineare siamo la terza sentenza che dà ragione in questo tipo di casi e quindi dà ragione anche a chi come noi sostiene da tempo che molti di questi verbali possono essere contestati questo è il motivo in fondo che ci ha spinto a lanciare il nostro invito che rinnoviamo oggi di non correre a pagare le multe ma verificare che non sussista qualche valido motivo per inviare il ricorso e quindi vedersi annullata la multa